Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Saltata all'amichevole con il Zarnano, ieri la Samb, in ritiro proprio nel Borgo Maceratese, ha effettuato un primo test in famiglia. Un modo per conoscersi, acquisire la forma fisica e mettere qualche minuto nelle gambe. La partita è finita 2-1 per i rossi dopo un primo vantaggio della formazione blu con Umile al quarto minuto. Immediato è arrivato il pareggio di Cardella sul rigore al dodicesimo con l'attaccante romano che era addoppiato poi al venticinquesimo. Lo stesso bomber rosso-blu è stato suo malgrado al centro di alcune voci che lo volevano di ritorno a Pineto, la sua ex squadra. Ma la smentita è arrivata direttamente da Federico Cardella. Sono voci che mi hanno un attimo scosso, perché non ho mai espresso la volontà di andare via da qua. Anzi, al contrario, non ho mai pensato di abbandonare San Benedetto. È sempre stato il mio desiderio. Continuare qui, soprattutto perché è una stagione fondamentale per noi, l'anno del centenario. Sappiamo che dobbiamo fare una stagione importante e io ho sempre sperato di poter essere uno dei protagonisti di questa stagione. Ho letto stamattina che è uscito un articolo dove dice che io avrei espresso il desiderio di andare via da qui per tornare a Pineto. Non so chi sia stato a far uscire questa notizia, ma è assolutamente una bugia. Non è vero. È un continuo che cercano di ristabilizzare l'ambiente, la squadra. Ma noi stiamo lavorando. Cerchiamo di non ascoltare, di non leggere i giornali o quello che si dice in giro su di noi. Però è normale che non fa mai piacere trovarsi in prima pagina con dichiarazioni di questo tipo. Intanto si è aggregato al gruppo anche il centrocampista Federico Angiulli che domenica scorsa non era riuscito a partire con i compagni per qualche problemino fisico. Il capitano è tornato dunque a disposizione del mister Sante Alfonsi che è in attesa degli ultimi innesti per rafforzare soprattutto il reparto d'attacco. Stiamo lavorando benissimo, stiamo facendo un bellissimo ritiro. I ragazzi si stanno impegnando tantissimo. Stiamo tutti quanti bene e per il momento sono tante cose belle. Oggi è ufficializzato anche Matas. La squadra sta prendendo corpo. Sei soddisfatto? Sì, stiamo lavorando bene anche con i giovani. La società sta lavorando bene, sta mettendo a disposizione una buona rosa. Sappiamo che qualcosina ancora c'è da fare. Ma tutti i giovani che sono venuti sono bravi, sono mentalmente pronti per giocare a San Benedetto. Fisicamente ci stanno pure. Stiamo cercando adesso qui di fare questo gruppo. Lavoriamo tatticamente per cercare di far migliorare tutti quanti. I gironi dovrebbero essere definiti il 10 agosto, mentre il campionato inizierà il 4 settembre. La Coppa Italia di categoria invece prenderà il via il 21 agosto. Infine, dopo il primo test match interno tenuto sieri, la Samba affronterà la prima amichevole il 30 luglio contro il Casette Verdini.